Amici del collezionista di cinema, sono Paolo Meneguzzi, un abbraccione. Il collezionista di cinema. Il mio stile preferito è quello delle commedie. Il principe cerca moglie, perché il principe cerca moglie ha significato la mia adolescenza, ogni volta che conoscevo una ragazza la portavo a casa a vedere il principe cerca moglie. Devo dire che ultimamente le commedie mi piacciono molto, anche se io non sono molto da cinema, non è che conosco proprio gli attori di Murphy, no, vabbè ce ne sono gli attori a livello a livello di nome, non li ricordo quasi neanche, soprattutto quelle delle commedie che ne fanno centinaia. Il collezionista di cinema. La vita cos'è senza musica, senza un tour, senza l'amore in questo caso. Da Paolo Meneguzzi un abbraccio e un buon estate e un buon sole per tutta l'estate. Ciao.